Sassa prova ecco qua salve a tutti bambini bambine nonni nonni e genitori sono il lupo lupone del teatro san carlino come avete visto in italia nel mondo e anche nel teatro tante novità si cambia e noi siamo pronti a cambiare prima c'era lupo mo ci sto io ma siamo sempre noi il teatro san carlino che non si ferma mai sono tante le novità anche se tutto sta cambiando si tutto cambia adesso giusto il tempo per organizzarci e presto tante novità che io non vi posso dire quindi ve le faccio dire da pulcinello pulcinello dove sei e trasferiamo tutti gli spettacoli dal teatro san carlino a villa borghese sulle piattaforme online on web quindi ci dovete seguire dovete cambiare cambiare il modo di seguirci mostro qua e ora qua www.sancarlino.it canale youtube del teatro san carlino noi ci siamo voi siateci pulcinella c'è certo che ci sono lupo lupone perché il teatro è necessario andiamo andiamo adesso come si esce dal web però come si esce del web di qua dal web così così dov'è il web è passato da qua l'interrame del web l'interrame del pub Grazie a tutti.